ciao a tutti ragazzi come sempre un reso saluto da eric il vostro barbaro e video velocissimo perché proprio è un piccolo teasing una piccola anticipazione farò un bel unbox qua dentro e che cosa ci sarà mai è una cagatina ma indovinate qua sotto dai vediamo un po chi indovina che cosa c'è qua dentro sono curioso relativo all'airsoft e fatemi sapere che cosa potrebbe mai esserci qua dentro e domani andremo con il video di unbox